Chi di voi si ricorda di Star Trek? Da bambino trascorrevo ore intere a vedere questa serie tv di fantascienza. Della sua navicella USS Enterprise, il cui modellino conservavo gelosamente nella mia camera. Comandata dal mitico Capitano Kirk, che spreciava nello spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove frontiere. Oggi, neanche qualche mese fa, all'età di 90 anni, il Capitano Kirk è riuscito nell'intento di volare davvero nello spazio, come passeggero a bordo di una navicella spaziale. Oggi, tutti possono andare nello spazio, perché l'accesso allo spazio è cambiato. Come voi saprete, in questi ultimi tempi, sulla scena internazionale, sono comparsi degli attori di Virgin Galactic, Blue Origin, Sierra Nevada. Operatori privati in grado di trasportare nello spazio, come nel caso della missione Inspiration4 dello scorso anno, o della missione Axion1 di aprile, normali cittadini, che non appartengono a nessuna agenzia spaziale e non sono nemmeno astronauti professionisti. Very normal people. Il paradosso è che negli ultimi mesi hanno volato più persone comuni che veri astronauti. Ma come si è arrivati a questo cambio di paradigma? Per capire l'evoluzione, vorrei ripercorrere con voi alcune tappe che hanno portato a questo cambio epocale. 12 aprile 1981, il primo Space Shuttle viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida, capolavoro di ingegneria. Era il primo veicolo riutilizzabile della storia dell'astronautica, che ritornava sulla Terra atterrando su una pista come i normali aeroplani, e poi ridecollava per una successiva missione. 8 luglio 2011, ultima missione dello Space Shuttle, Atlantis, chiamata STS 135. Il programma sotto l'amministrazione Obama viene cancellato. Il sistema di trasporto non era più sostenibile né affidabile. Ogni volo dello Space Shuttle costava circa un miliardo di dollari a missione, e in 135 missioni il programma aveva contato ben 14 vittime e la perdita di due velivoli. intanto i russi con la Soyuz, un razzo molto più affidabile, nessuna perdita ed economico, circa 240 milioni di dollari a missione, dispongono dal 2011 al 2020 dell'unico veicolo spaziale in grado di trasportare degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. E gli americani, con quel loro innato intuito per il business, approfittano di questo taxi estremamente efficiente. La meta è sempre quella. La Stazione Spaziale Internazionale, o ISS, International Space Station, la casa dell'umanità dello spazio, o come molti hanno sottolineato, il più grosso esperimento diplomatico mai esistito. Perché in questo laboratorio scientifico, a 400 chilometri di altezza, e che sfreccia alla velocità di 27 mila chilometri orali, astronauti professionisti, americani, russi, canadesi, giapponesi ed europei, convivono tutti in spazi ristretti, effettuano esperimenti in assenza di peso e si addestrano alle missioni spaziali del futuro. 30 maggio 2020, data storica. Gli americani escono lo scoperto e ritornano dello spazio in maniera autonoma, con il lancio della modernissima Crew Dragon Demo 2 di SpaceX, azienda appartenente al magnate Elon Musk. Badate bene, e questa è la differenza fondamentale, un privato, non più il governo. Si apre ufficialmente l'era del volo spaziale e commerciale, che apre dei scenari mai visti finora. Una rivoluzione copernicana, non solo per il sistema di trasporto, ma anche per la creazione di una struttura orbitante e privata, che avrà diverse funzioni. Una stazione spaziale e commerciale di nuova generazione, più grande, più moderna. Un laboratorio scientifico per fare esperimenti in microgravità, oppure un'infrastruttura residenziale in grado di ospitare sia l'astronautoprofessionista che il privato, che si vuole concedere un'esperienza veramente unica, ovvero utilizzarla proprio come un albergo nello spazio. Vi starete chiedendo, ma fra quanti anni succederà tutto questo? Esiste in America una ditta qualificata da NASA come l'unica che costruirà la prima stazione spaziale e commerciale con il lancio del primo modulo abitativo nel 2024, a cui seguiranno altri moduli che verranno assemblati come un sistema di Lego per completarla nel 2028, prima che l'attuale ISS, al termine della sua vita operativa, venga deorbitata, facendola precipitare nel cimitero spaziale, quello che in gergo viene chiamato Punto Nemo, ubicato nel mezzo dell'oceano Pacifico. Lo spazio oggi è veramente per tutti. Cambiando l'accesso cambia anche l'esigenza e è questo che apre il campo a nuove e variegate opportunità. Fino ad oggi tutti noi abbiamo immaginato lo spazio e tutto ciò che circonda lo spazio come ad un contenitore. Il razzo che consente di trasportare gli astronauti dalla Terra come un ascensore verso lo spazio, la stazione in grado di ospitare gli esseri viventi, ma non ci siamo mai soffermati sull'aspetto dei contenuti, ovvero di tutte quelle cose che vengono portate insieme a razzi, ma che sono altrettanto indispensabili e che vanno dal cibo al vestiario, dagli acquapiaggiamenti di controllo medico ai farmaci, dagli strumenti di igiene e cosmesi personale al wellness. Immaginatevi che cosa potreste fare in questa nuova infrastruttura. Potreste prenotare un soggiorno con camera con vista mozzafiato sulla Terra o sull'infinità dello spazio cosmico? Potreste, per far colpo sul vostro partner, riservare un tavolo per due al ristorante vicino alla cupola dove verranno serviti non più i poco allettanti cibi gliofilizzati stili anni Ottanta, ma prelibatezze, possibilmente italiane, e preparate con ingredienti coltivati dalla diecente serra spaziale e dove si berrà un eccellente prosecco magari prodotto proprio da queste parti. Dovrete fare almeno due ore di attività motore al giorno per evitare l'atrofia muscolare causata dalla microgravità in una palestra dotata di tutti i comfort necessari utilizzando attrezzature moderne che sappiano combinare l'intrattenimento digitale con una vista senza uguali. E questo sarà solo l'inizio di un'avventura che vedrà le infrastrutture orbitanti come il trampolino di laggio verso nuove metri la colonizzazione della Luna o di Marte che consegneranno alla civiltà umana di sviluppare sediamenti dove vivere per settimane, mesi o addirittura anni. Ma tutto ciò può essere fine a se stesso? In che relazione stanno lo spazio e la Terra? La sfida è sicuramente molto affascinante perché lo spazio impone delle costruzioni con cui confrontarti ogni giorno che vanno dall'assenza di gravità dalla scarsità dell'acqua che è una risorsa preziosissima ha la necessità di dover riciclare tutti i rifiuti inorganici perché è quello che porto dalla Terra a un peso e un costo enorme da sopportare. Quanti di voi hanno pensato oppure hanno spesso sentito dire ottimamente abbiamo un solo pianeta oppure l'umanità è a rischio di estinzione e sulla base di queste affermazioni vengono fatte le più assurde stime temporali per consentire all'uomo di fuggire dalla Terra e iniziare a colonizzare altri pianeti come estrema soluzione per evitare questa tragica e inesorabile sorte. È vero sì, un solo pianeta, la nostra Terra se pensiamo unicamente in termini di ottimizzazione e sfruttamento delle risorse ma se cominciamo a ragionare in ottica di innovazione e ottimizzazione lo spazio può fare molto per la sostenibilità di un solo pianeta ed è proprio da lassù che nasceranno nuove idee che consentiranno di rendere migliore la qualità della nostra vita sulla Terra e rendere migliore il futuro dei suoi abitanti. Non c'è limite a quello che si può fare nello spazio senza limiti l'impossibile ha solo bisogno di un momento in più. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.